Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Trova, prova... La prova a microfono? Mario, io vado. Vai. Vado? Vai. Che bello, amici di Radio Bruno, qui nella nostra postazione a Sanremo abbiamo Faso, Elio di Elio e le storie tese. Voi? Sì! Allora, per spiegare, voi... Cioè, sono tornata indietro a scuola con la chimica. Eravate insieme, quindi stato solido. Sì. Vi siete sciolti? Ti sei illuminato. Quindi siete stato liquido sul palco dell'Ariston, però volete sublimare come gas. Bravissima. Però tra un passaggio e l'altro c'è stata una reazione di ossidoriduzione, te lo dico perché... Eh, per la precisione. Cioè, no, perché se vuoi tornare indietro veramente c'era anche quella lì. Quindi c'è questo Arrivedorci. Arrivedorci. È uno stile ovviamente ripreso da Staglio e Olio. Da Staglio e Olio che sono stati già qui nel 1950, come tu sai, no? Tu mi insegni che sono stati qui. Quindi è un grande omaggio a questi due grandissimi comici, che poi erano anche amici, esattamente come noi. E poi hanno smesso anche loro, perché tutti smettono, prima o poi. Ma noi siamo arrivati alla conclusione che è meglio smettere prima. Però scusate, nella lingua italiana è addio il termine, non arrivederci. No, addio è quando proprio muori. Muori. Sì, non ti puoi più rivedere. Arrivedorci è quando vai e non vai mai, e alla fine però vai e dopo vai. Tipo che alla 30 giugno noi andiamo. Prima del 30 giugno ci saranno... Ci sono un sacco di Arrivedorci. Occasioni per incontrarci, suoneremoci, impegneremoci. Insomma, per tutti quelli che hanno questa passione antica, per i gruppi che suonano dal vivo bene. Esatto. Ecco, quelli possono soddisfare questa perversione entro il 30 giugno, in tutta Italia. Ma prima, il venerdì, in duetto con i neri per caso. Esattamente per caso. Lì invece potete soddisfare la perversione di un ascoltatore che vuole sentire della gente che canta molto bene. E i neri per caso, loro, sono quelli che cantano molto bene. E quindi ci sarà questo legame di voci, la tonante voce del cantante Elio. Vabbè, ti piace tonante. Sì, è abbastanza. La tonante alle suadenti invece voci dei neri per caso che si fondono insieme in un mix che, non so, neanche il tiramisù è così miscelato bene. Tanto per fare un parallelo culinario che va tanto forte in questo periodo. Molto, Masterchef insegna. Allora, però anche loro erano stato solido, liquido, poi sono ritornati solidi insieme i neri per caso. E i neri per caso si sono sciolti. Non si erano mai sciolti. E i neri per caso. C'è stato anche un cambiamento della band. No, no, no. Erano rimasti in... Si erano messi in stand by con i fidanzati. Una staglina. No, per pensarci bene. Poi però si sono ritrovati e hanno detto no, vabbè. E sono stati insieme. Come sarà invece questo duetto? Nel senso, come sarà divisa la canzone? Sarà invece un cantare tutti insieme dall'inizio alla fine? Sarà un bel arrangiamento di un brano comunque raffinato e per niente facile che loro, cioè i neri per caso, sono stati in grado di mettere in piedi. Quindi tanto di cappello a questo gruppo, a questo gruppo molto raffinato, antico, perché sono in attività da tanti anni, che fanno una cosa strana in Italia, cioè fanno le cose bene. Si cantano bene. Comunque io so che lei voleva qualche anticipazione, questa te la posso fare. C'è un momento in cui loro canteranno, na 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 na, intanto che lui... Ma non anticipare troppo. Ma non è una cosina. È uno spoiler questo. Sì, è uno spoiler. Intanto che lui canta, na na na. Quello lì è un po'... Grazie. Ma non ti ho anticipato troppo. Che scoop meravigliosi amici di Radio Bruno. Mi rendo conto. Allora, siete stati testimoni di un qualche cosa sull'Ariston di incredibile. Non soltanto, e quindi tutti i social vi adorano, avete Peppe Vessicchio come direttore d'orchestra, ma anche c'era Pippo Baudo che è tornato al suo 14esimo festival, presentando proprio prima di voi. Però non se ne andava più via. Sì, vabbè, ma perché Pippo, come sappiamo, è il re del palcoscenico. Quindi quando sale sul palco è come a casa sua, è come gettare una tigre in mezzo alle gazzelle. Cosa vuoi fare? Che non se ne mangi qualcuna? È impensabile, ma lui è a casa sua e domina, domina la scena e come dire, è stato preso da una specie di trans da conduttore e conduceva lui. Bellissimo. Prima di noi poi è perfetto. Tu cosa dici? Eccezionale, Pippo. Noi siamo fortunati di essere stati presentati da Pippo Baudo, dalla Unziker, da quell'altro che andavano avanti per ore e ore e noi eravamo lì sul palco a fare niente, per cui alla fine ci siamo messe a fare una morra. Esatto, abbiamo giocato alla morra dei cantanti, che è un gioco, non lo conoscete? Sì, sì. Cioè, abbiamo visto ieri. Eh no, ma voi non se ne vavano? La morra dei cantanti è un brevetto nostro insieme a Luca Barbarossa, è un gioco che è nato dentro un van che non partiva mai dal parcheggio dell'Ariston e consta nel nucleare, lanciare, diciamo così, nomi di cantanti o di gruppi monosillava, per cui si gioca così tipo Neck, Prince, Ron, Rem, Queen, Rick, Dick, Dick. Quando si dice Dick, 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 è finita la partita. E allora dicendo Dick, Dick, siamo al termine di questa intervista. È già finita? È già finita, perché siete meravigliosi e è volato il tempo. Lo sappiamo, te l'avevo detto, che a Radio Bruno fa l'intervista in corte. Tu non volevi credermi e adesso piangi, per forza. Piangi, che fa ascolto bravo. Allora, grazie a Faso, Elio, Elio e le storie attese. Grazie a voi. Grazie a Bruno. Arrivedoci. Ciao Bruno. Arrivedoci. Che dire se non, arrivedoci. Arrivedoci. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Guesthouse, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, Concessionaria Renau Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e Biper Banca.